Sì, 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 ecco, va, stiamo facendo i suoni, il coro, un attimo, un attimo di pazienza, oh, ecco, benissimo, Sergio, si, 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 Sergio, eh, eh, perfetto, siamo pronti? Sì, siamo, io mi ero, 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 sono le telecamere, vai, allarga, 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 Valeria, vieni, Valeria, vieni qua, sì, l'inizio non è facile, eh, ve lo dico, è nata, vai, Francesco Gabbani, E sono bellissimi, il dubbio è un etico, contemporaneo come l'uomo del politico, nella tua gabbia, tu e per te, mettiti in comodo, intellettuali del caffè, intellettologi, sociomolari, gruppi dei servisti, anonimi, l'intelligenza devone, risposte infacili, dilemmi lunghi, ah, 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.